E ora mi chiamiamo Elena. Martin, Edel. Grazie. Assoluto. Ho deciso che voglio essere come voi. Parlare come voi, pensare come voi. Adesso leggo la cimane di leggere, di impararmi. Ho riflettuto molto su me stesso. E ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchie attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore. Io non l'ho mai amata. Allora, impariamo insieme. Ma non capisci, sti capo, che stai nella spunti? Fare lo scrittore è ridicolo per uno che ha imparato da poco a leggere. E io mi dovrei vergognare di raccontare tutto questo. Eh? Basta, mi parti a casa ora. E noi viviamo, noi respiriamo. Soltanto se bruciamo, non bruciamo. Lo scrittore Martin, Edel. Non esiste. Un solo mito. A me non mi fregarete mai! Un solo mito. Grazie a tutti.